No, aiuto, aiuto, ciao, ciao! No, allora, volevo... Nii-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh ah-ah-ah-ah Ciao! Aiutti... Aiutti, quello! Lo stanno, lo volo stanno! Volevo chiedere, una cosa... allora signor mi dica vabbà vabbà no cioè perché non metto sotto una sera mi dio cansa vien qua che lì signor delta anzi cane delta buon giorno fermi voi due buon giorno aiuto no musicale però no musicale non è un cosciotto sei un cosciotto ciao buonanotte